Sarà una Santa Barbara amara per i Vigili del Fuoco di Arezzo. Dietro le quinte di un giorno di festa sono molte le cose che non vanno. Comincia così un comunicato stampa arrivato in redazione dal CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, Andrea Bindi e il segretario Aretino. Sono molte le cose che non funzionano a partire dal degrado delle sedi di servizio centrali e periferiche. La mancanza di docce funzionanti, di acqua calda in via degli accolti, la sede del comando provinciale Aretino è solo l'ultima di una lunga serie di problematiche. Un parco mezzi vetusto e continuamente fermo o in riparazione, sempre più spesso a ferma Bindi ci troviamo a portare soccorso con mezzi di oltre 30 anni. Straordinari non pagati, addestramenti necessari al mantenimento delle specializzazioni rimandati per risparmiare e promesse disattese dal comando. Hanno portato alla programmazione dello stato di agitazione, inviando una comunicazione ufficiale alla direzione nazionale e alla prefettura. Infine, conclude Bindi, è di pochi giorni fa l'arbitraria mossa di sottrarci un mezzo di vitale importanza per il comando, vista anche la geografia della nostra zona. Il furgone è attrezzato per il soccorso spleo alpino fluviale, a vantaggio di un'altra sede toscana. Per la prossima settimana è già in calendario un primo incontro.